Spero che ti mandano in Sardegna? Sardegna, eh? Così è un mondo per andare a fare una passeggiata in Sardegna. Andiamo a trovare. Ci sono le sorelle là? Sì. E allora, che da cosa nasce sempre cosa? Quanto tempo manca quando ci andammo con i miei amici quella volta? Sì. Stanno facendo i lavori là. Ah, quello dovevano fare la casa per un lavoro? Sì. Secondo la norma perché quello tuo è piccolo. Sì, perché nel corridoio ci devono entrare due letti. Perché fanno fermare? No, è che magari il suo camion si è rotto. Capito? Mi sa quando l'aprono questa altra galleria qua. Eh, questa è chiusa, no? È chiusa? Eh, hanno fatto un hit con questo. Eh, eh. Io non aprono. No, e questa qua è quella che va verso, capito? Picquense. Eh, perché tu quando vieni da Picquense per andare invece di andare là e poi venire qua e... Forse dici un altro anno di lavoro. Ma prima faceva così quella là. Dopo hanno fatto nuovo questo. Eh, eh. Perché tu prima per andare qui a me dovevi andare verso Vicquense per prendere questa galleria. Ma invece chi da Vicquense deve andare verso Sorrent, deve andare qua all'imbocco della galleria e poi deve salire di qua. Invece se finisco di fare quella, si risparmia un bel po' di... per salire su. Ma forse entro quest'anno inizieranno anche i lavori dall'ospedale di Sant'Agata fino a Moiana. Eh... Ah, superstrada. Che sfida. Sì. Sì. Sotto la galleria. Però... Sotto la galleria? Eh. Di... Ah, ok. Di... Sì. Sì. Sì, sì. Ma io prima di arrivare a Capua ti chiamo. Eh, tra un'oretta penso che arrivi. Eh, va bene. D'accordo. Ciao a voi anche. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a voi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vediamo questo momento di dolore, affidandolo alla tenerezza del povero. Quindi è morto oggi? Sì. Ah. Ci farò. Però le segue si faranno domani. Eh, è morto oggi. Quindi... Oh, è che è piovuto? No, è piove. Oh, signor. E com'è? Non avevamo nessuno. Ha visto questo? No. E' un genio qualche video.